Dopo due giorni di riposo il Campobasso torna ad allenarsi in giornata. L'impegno ultimo di San Mauro di Romagna sarà quasi per l'onore della firma per entrambe le squadre che non devono più esprimere nulla in fatto di obiettivi. Salvezza anticipata per i romagnoli e per i campobassani. Bagatti potrebbe anche procedere ad una mini rivoluzione in seno all'organico Rosso Blu proprio per concedere 90 minuti ed un debutto da titolare a chi si è visto meno nel corso della stagione. A dirla tutta il tecnico Rosso Blu non è mai stato restio tutt'altro e coinvolgere molti dei componenti della rosa nella missione salvezza cominciata alla fine dello scorso mese di novembre. Contro la San Maurese si giocherà sabato prossimo per esplicita richiesta della società romagnola che aduce come motivazione le avverse ed intense precipitazioni atmosferiche previste per domenica 5 maggio. A tale richiesta di anticipo il Campobasso ha aderito. Ieri presso lo stadio di Contrada Selvapiana si è svolto uno stage di ragazzi degli anni 2001-2002-2003 sotto la supervisione attenta dello staff del settore giovanile Rosso Blu. A tale provino hanno partecipato una quarantina di ragazzi provenienti da tante scuole calcio molisane ma non solo, è stata registrata affluenza anche da alcune scuole calcio di Roma, Bologna e altre della vicina Campania. Gli addetti del settore giovanile hanno voluto aggregare anche alcuni elementi interessanti della seconda squadra del Campobasso come i molisani classe 2001 Martino e della Ventura. Quest'ultimo ha bagnato il suo esordio domenica contro il Matelica. Sembra che fra i circa 40 ragazzi presenti una decina abbiano suscitato più interesse degli altri. Ad ogni modo un nuovo stage è in programma fra 20 giorni. La società si mostra molto attenta alle dinamiche del settore giovanile una maniera virtuosa senza scadere nella retorica per garantirsi il futuro in fatto di ricambio generazionale. Ultimi 90 minuti da brividi per Agnone e Di Sernia. Non facile anche la situazione degli altomolisani che si preparano ad ospitare la Vastese. Quest'ultimo è un incrocio molto pericoloso. Gli abruzzesi non sono salvi a causa del KO interno contro l'Avezzano mentre la squadra di Mecomonaco deve guardarsi anche alle spalle da un possibile aggancio da parte di Sant'Arcangelo o Isernia. Il tecnico Granata che ha fatto sei punti in quattro partite da allenatore agnonese guarda con ottimismo all'ultima di campionato ma forse anche con un po' di rammarico. In tre delle quattro partite da nuovo allenatore Mecomonaco si è trovato in vantaggio salvo poi essere pareggiato. L'allenatore abruzzese si gode anche una vena realizzativa nuova da parte dell'ex Campobasso Mattia Bisceglia autore di ben tre reti nella gestione tecnica Mecomonaco. 2.0 Una cosa è certa date le premesse appena citate al Civitelle sarà partita vera domenica nessuna potrà regalare nulla Agnone è certa dei play-out in caso di vittoria Vastese risucchiata nei play-out in caso di sconfitta e contemporanea vittoria del Forlì in casa contro la Recanatese. Isernia da par suo spera di non retrocedere direttamente ovviamente di rientrare in un play-out che verosimilmente potrebbe essere solo in casa della sest'ultima che ancora è da determinare. Biancocelesti condannati a vincere a Matelica contro una squadra che anche dalla dichiarazione di fine partita a Campobasso ha di fatto ceduto le armi al Cesena tanta la differenza di valori fra la squadra di Silva ed il Matelica. Il tecnico riavrà Barretta a disposizione al centro della difesa dopo la squalifica scontata potrebbe partire con una gara più attendista per poi provare a colpire una squadra che di fatto come molte altre del girone ha poco altro da aggiungere al proprio campionato.